Bentornati al Tg7. Lo avevano promesso e lo hanno fatto. I ragazzi del liceo Gobetti hanno occupato l'istituto. La protesta nasce per contrastare la proposta arrivata nei giorni scorsi e cioè di accorpare il liceo con l'istituto tecnico libero dei libero. La causa di tale decisione sarebbe il sottodimensionamento e se l'unione dovesse realmente essere fatta il nuovo istituto prenderebbe vita in via San Magno, attuale sede del tecnico. L'obiettivo degli studenti è quello di mantenere la propria autonomia, conservando il nome dell'istituto tanto caro alla città di Fondi. Una sede storica protetta oggi da chi sta costruendo il suo futuro. Tanti giovani maggiorenni che hanno occupato la struttura anche questa notte, così come tanti sono invece i minorenni che sono tornati questa mattina sui banchi per rinnovare il no all'accorpamento. Spostiamoci a Sperlonga, dove il presidente del Consiglio Comunale, Aldo Farina, ha convocato la riunione della massima assise cittadina per lunedì 19 dicembre alle ore 15 presso l'ex chiesa Sante Marie de Spelonche. Intensa la seduta che vede ben 17 punti all'ordine del giorno, tra questi una variazione al bilancio di previsione finanziario con la ratifica della delibera di giunta comunale del 30 novembre 2016, le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC e al regolamento per il canone di occupazione del suolo pubblico, l'approvazione delle aliquote IMU, Tasi e Tari per il 2017, l'annullamento dei canoni con ricognitori, il piano delle alienazioni e valorizzazione e il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019. Si discuterà inoltre sull'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e sull'adesione del Comune di Sperlonga all'associazione I Borghi Più Belli d'Italia nel Lazio. Incentivare il turismo e il conseguente richiamo di nuovi visitatori in paese vuol dire anche creare condizioni economiche, più favorevoli per chi vuole conoscere itri o ricarvisi perché attratti dalle iniziative messe in cantiere per il periodo natalizio. Queste considerazioni hanno perciò spinto la giunta Far Giorgio a stabilire per il periodo che va dalla festività dell'Immacolata dell'8 dicembre scorso a domenica 8 gennaio 2017 la gratuità dei parcheggi degli autoveicoli su tutto il territorio comunale. Parliamo ora di Lenola. Dopo aver raccolto numerose proteste da parte dei cittadini, l'amministrazione comunale ha preso atto che negli ultimi tempi continuano i disservizi causati dal ritardato e mancato ricapito della corrispondenza di poste italiane. Nell'incontro di qualche giorno fa l'amministrazione ha comunicato di farsi portavoce presso la direzione generale di fondi di eventuali disagi. È inammissibile, si legge in una nota diffusa dall'ente municipale, che si debba ancora ricevere la posta di ritardo o vedersi recapitare le bollette delle utenze domestiche già scadute da settimane, con inevitabili ripercussioni a danno delle tasche dei cittadini. I cittadini, infatti, sono preoccupati di dover poi, per inefficienze a loro non imputabili, pagare e sostenere spese per interessi e sanzioni o addirittura subire l'onta del distacco delle varie forniture domestiche. Alla luce di ciò, eventuali disagi potranno essere comunicati alla seguente mail sindaco-comune.lenola.it Cambiamo argomento. Sarà impossibile dimenticare le intense emozioni suscitate dal concerto Cantando intorno al Presepe di domenica scorsa. Si esprime così l'assessore alla cultura del Comune di Fondi, Beniamino Maschietto, dopo il successo dell'esibizione natalizia che ha visto alternarsi nell'auditorium comunale la corale polifonica Città di Fondi, il coro Incantu Città di Sezze e il coro polifonico Città di Alvito. A tutti i coristi, ai maestri, Maria Civita Marrocco e Gianni Mastromanno, Carlo Marchione e Luigi Viglietta, prosegue l'assessore Maschietto, va il sentito ringraziamento della comunità fondana e dell'amministrazione comunale per la stupenda esibizione. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Formazione Musica con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale dei Montiausoni e Lago di Fondi, era inserita nel programma del Natale Fondano 2016. Si è tenuto lunedì scorso presso il ristorante dell'Hotel Europa Latina, il Gran Galà per il Natale del Cuoco, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi e in particolare dalla Delegazione di Latina, presieduta da Luigi Lombardi, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Come avete visto ci sono diversi personaggi, stasera siamo circa 200 persone, abbiamo messo in risalto i soci dell'Associazione, infatti questa sera sono proprio i soci che stanno realizzando stanno realizzando questa manifestazione, cioè i piatti che sono serviti in questa serata. C'è il proprietario del ristorante Satricum di Latina, Massimo Cutilli, che comunque ha avuto diversi riconoscimenti quest'anno, c'è Simone Nardoni, proprietario del ristorante Essenza, anche lui, diversi riconoscimenti, una menzione della Michelin, abbiamo poi Pasquale Mincicuera, che è lo chef che ci ha accolto, lo chef dell'albergo dell'Hotel Europa, anche lui, un bravo ragazzo, veramente una bella mano, lo chef Grossi Roberto, che è lo chef del ristorante Evans di Cassino, lo chef Capirchio Francesco, che comunque è lo chef del ristorante Lo Stuzzichino di Campodimile. All'evento era presente anche Rocco Pozzulo, presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi. Ascoltiamo. Ci sta, secondo me, una ripresa della nostra cucina territoriale, che poi forma l'ossatura della cucina nazionale, quindi la gente riscopre sempre di più il territorio e con sé prodotti tipici, e di conseguenza i nostri cuochi che sanno trasformare, attraverso la loro creatività, la loro conoscenza delle materie prime, al meglio questi prodotti, rispettando sempre la tradizione. È un momento importante per la nostra cucina e soprattutto per quella regionale e provinciale. Domenica 18 dicembre, dalle ore 10, presso il ristorante Miralagua Sperlonga si terrà incontro. La vita è un dono unico, percorso per l'assistenza ai pazienti trapiantati e dializzati in valutazione o in attesa per trapianto renale. Il convegno, organizzato dall'ANTR ONLUS, Associazione Nazionale Trapiantati di Rene, sezione provinciale di Latina, è aperto a tutti ed è patrocinato dall'ASL di Latina, dal Comune di Fondi e dalla Banca Popolare di Fondi. Per l'intero programma e per ulteriori informazioni vi rimandiamo al nostro sito tvcanalesette.it. Siamo ormai alla fine del 2016 e si può analizzare l'anno trascorso per individuare la persona che più si è distinta del comprensiorio fondano. La Proloco Fondi promuove la quarta edizione del premio Persona dell'anno 2016, riservato alle persone che si sono distinte nel corso degli ultimi 12 mesi vissuti in qualsiasi campo e ambito, nel dare lustro alla città di Fondi o del comprensorio. Come per le tre edizioni precedenti, non ci sarà una giuria dall'alto che deciderà, ma tutti possono indicare la persona che più merita il premio attraverso il web entro giovedì 12 gennaio 2017. Per farlo si può inviare una mail all'indirizzo info-prolocofondi.it oppure collegarsi alla pagina della Proloco su Facebook o ancora inviando un messaggio WhatsApp al numero 329-77-64-644. E da quest'anno anche attraverso l'applicazione di Telegram cercando associazione Proloco Fondi. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 15 gennaio 2017 all'interno del Palazzo Caetani di Fondi. L'edizione 2015 se l'è aggiudicata il dottor Carlo Carlevale, oculista. Per rileggere i numeri e le mail disponibili vi rimandiamo al nostro sito tvcanalesette.it e ora apriamo la pagina sportiva. Dopo Coletta e il capoluogo, Anna Maria Bilancia e Priverno, il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana è stato ricevuto in questa settimana a fondi anche da Salvatore De Meo. Nell'occasione è presente il delegato allo sport della città Fabrizio Macaro. Il terzo incontro con un sindaco nel contesto del Giro di Orizzonti della Federazione Ciclistica Italiana tra le diverse amministrazioni per valutare quale supporto concreto poter ottenere sul fronte delle organizzazioni delle gare. Si è dunque consumato in un clima di cordialità e di apertura per il futuro. Passiamo alla palla a mano. Arriva la prima sconfitta stagionale per le ragazze dell'HC Banca Popolare di Fondi che domenica 11 dicembre sono state messi al tappeto nella trasferta che le opponeva alle avversarie della Onmix Salerno. Si è trattato di un match dai toni entusiasmanti quello che ha visto scendere in campo le campane contro le laziali. Inizialmente le atlete di Mr. Mainolovic hanno tenuto testa le padrone di casa difendendo un esiguo vantaggio per quasi tutta la prima frazione di gioco al termine della quale però le Rosso-Blu hanno ceduto il passo alle avversarie e da quel momento non sono più riuscite ad acciuffarle. Le fondane, nonostante la sconfitta restano in testa la classifica del girone D di seconda divisione anche se in coabitazione con Messina, Pontinia e lo stesso Salerno. Da oggi, dopo il nostro TG, sarà trasmesso il trailer del film di Mondo Magico del regista Raffaele Schettino. La pellicola, in uscita a gennaio, vede tra le protagoniste l'attrice di Fondi, Mara Calcagni. Il film sarà proiettato dal 20 gennaio al Supercinema Castello. Vi ricordiamo inoltre che questa sera dopo l'edizione delle 20 e 50 del nostro TG andrà in onda un altro incontro del Fondi Film Festival all'edizione 2016 organizzato dall'Associazione Giuseppe De Santis. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e non solo. Questa edizione del nostro TG termina qui. Io, come sempre, vi ricordo che se avete suggerimenti o segnalazioni da fare potete farlo mandando una mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcanalesette.it o contattandoci sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito tvcanalesette.it dove troverete tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti. Grazie per averci scelto anche oggi vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete. Grazie. Grazie a tutti.